Un saluto a tutti, noi da San Giuliano direttamente per Scalo 76, adesso qui ogni giorno. A scaldare il pubblico di questi talenti fenomenali, con la nostra Lucilla e il fan club Lucilla. E' troppo bella Lucilla, veramente. Siamo Andrea, Danilo, Francesco e Mario. E' Mario, lui è Mario, un saluto e un bacio speciale per Lucilla. Ciao ragazzi.